Arretramento ferrovia, Ricci spinge per chiudere l'accordo, arte e impresa si fondono nella nuova azienda Tecnovool, macerata feltra e vigili del fuoco devono pagarsi la mensa da soli, lotta agli sprechi, nuovo accordo fra Gulliver e Conad, sport weekend da incorniciare per WL e Vispesaro. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale Rossini News, primo telegiornale di questa settimana che in questa edizione di lunedì 4 aprile apriamo tornando ad occuparci del tema dell'arretramento della ferrovia su Pesaro. Dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture emersa nei giorni scorsi, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha oggi invitato la regione ad affrettare nel chiudere un accordo che sarebbe davvero storico. Un investimento mai visto superiore al miliardo di euro per un intervento mai visto come sarà l'arretramento della ferrovia per 19 chilometri di tracciato pesarese. A pochi giorni dall'ufficializzazione dell'approvazione del Ministero delle Infrastrutture per l'arretramento della linea adriatica Bologna-Taranto nell'area comunale pesarese emergono i primi dettagli di come sarà il nuovo tracciato ferroviario. Per quasi 8 dei 19 chilometri arretrati sarà costituito da un viadotto sopraelevato compresa la stazione che sorgerebbe a cavallo fra Villa San Martino e Villa Fastigi non lontano da strada dei cacciatori e dalla motorizzazione civile. L'arretramento comincerebbe subito dopo la galleria di collegamento con Cattolica e si concluderebbe a 6 chilometri e mezzo dalla stazione di Fano dove il tracciato nuovo si riallaccerebbe al preesistente. L'esclusione di Fano, Marotta e di buona parte di una regione che spinge per un informarsi all'arretramento dalla costa ha spinto la regione Marche a cercare di coinvolgere il Ministero delle Infrastrutture verso la condivisione di un progetto più allargato. Matteo Ricci, che ha fatto del bypass ferroviario uno dei recenti cavalli di battaglia, invita la regione ad affrettarsi nel chiudere un accordo senza precedenti. Speriamo che chiudano alla svelta l'accordo perché è davvero un'occasione storica per la città, stiamo parlando di un miliardo e mezzo, 1500 milioni di euro, una cosa spropositata, un investimento mai visto in città. Io invito la regione a fare meno polemiche e a chiudere un accordo perché non possiamo rischiare di perdere un investimento di questo tipo e noi chiediamo da tempo di inserire anche Fano perché la ritiamo strategicamente molto più importante e valida, però per noi che ci lavoriamo da anni, ormai quando abbiamo fatto il piano di fattibilità insieme a Ferrovie del 2018, insomma è una bella soddisfazione, speriamo che chiudano presto l'accordo in modo tale da poter far venire qua il Ministro e spiegare a tutti che cosa potrà succedere nei prossimi anni. Un tema, quello della Ferrovia, affrontato oggi dal Sindaco Ricci a margine di una inaugurazione molto particolare, quello che riguarda il completamento della opera pittorica della nascente azienda Pesarese Tecnovull che si trova proprio sull'Interquartieri e che apre una novità in città all'insegna di un particolare connubio fra arte e impresa. Via Sandro Pertini, strada Interquartieri, azienda Tecnovull, un'azienda di dimensioni importanti che i pesaresi in transito sull'Interquartieri hanno visto crescere pezzo dopo pezzo e pennellata dopo pennellata in queste settimane. Un'azienda che non può lasciare indifferenti con questa opera pittorica realizzata proprio sulle pareti della struttura aziendale. Un'opera pittorica importante realizzata da un artista di fama internazionale come Cicos, artista leccese, che ha collaborato con gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni per la realizzazione di questa opera per la quale oggi si è tagliato il nastro alla presenza anche del comune, del sindaco Matteo Ricci e degli assessori Daniele Vimini e Riccardo Pozzi che abbiamo ascoltato in merito a questa importante iniziativa. Questo è un luogo di lavoro che grazie all'Iceo Scientifico Mengaroni, a un writer importante e alla disponibilità dell'azienda è diventato un luogo d'arte perché oggi abbiamo in una delle strade d'accesso alla città tra le più importanti e un'opera a tutti gli effetti di morale si è realizzata con dei richiami importanti ai valori della città, quindi con il contributo dei ragazzi, quindi un'opera che ha un impatto importante e che trasforma un edificio di lavoro da una struttura che ha anche una valenza in termini di arte. Una di quelle non è la prima e non sarà l'ultima, nel senso che grazie al lavoro che è iniziato qualche tempo fa insieme a Massimiliano Santini, evoluto dal sindaco, che prevede proprio una riqualificazione, una colorazione di quelli che sono i luoghi grigi della città e quindi siamo intervenuti già su diversi sottopassi, altri tre ne coloreremo in quest'anno, più altri interventi importanti sui Morales, penso a quello di Liliana Segre piuttosto che altri interventi importanti che stanno dando una connotazione importante alla città da questo punto di vista. In questo caso ha un valore triplice perché intanto è stato realizzato da un'azienda che sta facendo un grande lavoro nell'efficientamento energetico, per noi è un fiore all'occhiello per la nostra città, dall'altra perché qui si è trasferito un'attività che spostiamo dal cimitero e questa è una vecchia vicenda che ci consente di migliorare il parcheggio, la viabilità di quell'area a vantaggio del cimitero ma anche a vantaggio del mercato e terzo perché è qui su una delle vie principali della città e quindi ha un impatto visivo molto forte e quindi insomma siamo molto contenti grazie a Luzia e a Tecnovull per questo investimento, per il lavoro che fanno. Noi continueremo, quest'anno avremo altri tre luoghi, soprattutto sottopassi che andremo a realizzare con opere di street art e l'obiettivo è che nel 2024 quando saremo capitale della cultura tra le tante cose che si potranno vedere organizzeremo anche un tour in bicicletta per vedere le tante opere di street art che sono state realizzate e si realizzeranno nei prossimi anni. E dunque per Pesero capitale della cultura, cultura vuol dire anche arte, arte vuol dire anche street art, non solo sui muri urbani ma anche in aziende private. Per un'azienda come la Tecnovull questo abbinamento arte-impresa è senz'altro motivo d'orgoglio. Apriamo qui a Pesero dopo 15 anni che giriamo per l'Italia, aprendo sedi, siamo 15 Tecnovull ramificate sul territorio dal nord a sud di isole comprese e arrivato eravamo pronti per aprire anche a Pesero. Io da pesarese orgoglioso di essere pesarese e di vivere questo territorio abbiamo pensato di realizzare qualcosa che fosse un benvenuto, fosse un omaggio alla città di Pesero che ci ha accolto a questo bellissimo territorio e in più che fosse un omaggio anche alle persone che vivono la quotidianità, transitano davanti a questa strada. L'idea è quella di lasciare un benvenuto a chi entra nella nostra bellissima città e alle persone che tutti i giorni passano qua davanti per le più disparate ragioni. Vogliamo ricordare anche per chi non la conoscesse che cos'è Tecnovull, che cosa produce? Distribuiamo e commercializziamo materiali isolanti, termici e acustici per edilizia navale e industria e quindi siamo molto impegnati nell'efficientamento energetico quindi è un periodo che si vede particolarmente attivi nello sviluppo e nella promozione della nostra attività. Dallo scorso mese di novembre i vigili del fuoco che operano nel distaccamento di Macerata Feltria sono costretti a pagarsi la mensa di tasca propria. A denunciarlo è il sindacato di categoria Conapo che ricorda come l'amministrazione abbia accumulato un ritardo di oltre sei mesi nell'erogazione dei buoni pasto e questo pesa nelle tasche dei lavoratori e dei bilanci familiari. Due mesi fa il sindacato aveva sollecitato il dirigente locale a trovare una soluzione ma ad oggi il ritardo si è ulteriormente prolungato e ancora non è dato sapere se la situazione si sbloccherà. Il sindacato si dice così costretto a scrivere direttamente a Roma al capo del corpo nazionale e alla direzione centrale delle risorse finanziarie per trovare una soluzione a questo caso. Restiamo in tema di Vigili del Fuoco ma è per un altro argomento. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono infatti all'intervento della squadra di Pesaro che ieri alle 12.45 è intervenuta sul Monte Brisighella all'interno del Parco San Bartolo per recuperare un cane di razza Labrador di 40 chili caduto in un dirupo ad una profondità di circa 10 metri dalla strada principale. La squadra di Pesaro ha recuperato il cane utilizzando tecniche speleoalpine fluviali per poi riconsigliarlo al proprietario in buono stato di salute. In queste settimane Rossini TV si è spesso occupata di lotta agli sprechi alimentari. Oggi arriva un altro passo avanti in questa tematica per quello che riguarda il recupero delle eccedenze alimentari. Un passo avanti fornito dall'accordo fra Onlus Gulliver e Conad del Porto in via Canale a Pesaro. Accordo che vi mostriamo in questo servizio. Quello di questa mattina è stato un momento importante per la Onlus Gulliver che da bottegone del riuso ha deciso da qualche mese di porre l'attenzione anche sul recupero dei prodotti alimentari deperibili. Ed è così che oggi è partita ufficialmente la prima collaborazione con un supermercato del territorio, quello del Conad del Porto in via Canale. Da oggi iniziamo il recupero alimentare quotidiano in questo esercizio commerciale. Grazie alla legge Gadda il Conad o altri esercizi commerciali che vorranno aderire potranno recuperare il valore commerciale del bene. Questi beni saranno poi distribuiti a tutte le famiglie bisognose che Gulliver segue in città, quindi 400 persone che quotidianamente prendono il pacco alimentare in Gulliver. Parliamo di, come vedete, di verdura, di mozzarella, di qualunque cosa. Il Conad ha in prossimità di scadenza, ci donerà. Noi lo distribuiremo grazie ai nostri volontari e grazie a tutte le famiglie che credono in Gulliver. Il nostro invito forte è quello anche agli altri esercizi commerciali di partecipare a questo grande progetto che, ripeto, inizia oggi. È un progetto bellissimo e generativo. Siamo felicissimi di partire con questo progetto grazie alla collaborazione che è partita da tempo con l'On Luce Gulliver che ci permette tutti i prodotti che vengono ritirati dalla vendita giorni prima per legge che, insomma, non si possono vendere e li possiamo destinare a persone bisognose e aiutare chi ha bisogno. In una situazione così difficile come in questo periodo noi diamo il nostro piccolo contributo perché, come dice anche lo stesso nostro slogan, siamo persone oltre le cose. Grazie alla legge Gadda, recuperare il valore commerciale del bene riguarda non solo i supermercati ma anche le aziende che vendono mobilio o altro. I coni supermercati hanno in giacenza prodotti a fine vita donandoli alla Gulliver che poi li dona alla famiglia bisognosa e possono recuperare il valore commerciale. Le ditte che hanno in magazzino, mobili o altre cose che possiamo donare a famiglie bisognose, idem, le donano alla Gulliver e recuperano il valore commerciale. È una legge molto importante. da noi a Pesaro poco conosciuta e quasi per niente sfruttata. Quindi l'invito agli imprenditori, che siano supermercati ma che siano aziende, di donare l'invenduto o i fondi di magazzino che sono ancora cose buone, che possono essere utilizzate per le famiglie bisognose. Pensiamo solamente a una sedia in un magazzino di una ditta che vende sedie o materassi. Queste cose, che ferme i danni, che sono ancora buoni, possono essere donate alla Gulliver che poi alle gira le famiglie bisognose. E l'azienda recupera valore commerciale. In questo caso parliamo di frutta, verdura, latticini, carne. È un aiuto grandissimo alla comunità. Ripeto, l'invito è di estendere questo progetto anche ad altri punti vendita. È morto ieri all'età di 82 anni Giorgio Chittolini, uno dei massimi studiosi della storia medievale italiana e europea. L'Università di Urbino esprime cordoglio per Chittolini, che è stato uno dei curatori dell'opera in tre volumi, Federico da Montefeltro, lo Stato, le arti, la cultura. Ed è anche stato membro del Comitato per le celebrazioni dei 600 anni dalla nascita del Duca. Confcommercio Marche Nord con il direttore generale Amerigo Varotti ha promosso l'educational alla scoperta dell'itinerario della bellezza a cui hanno partecipato nei giorni scorsi oltre 20 operatori turistici di Gabicce Mare e di Fano che in Pullman hanno risalito la Valle del Metauro visitando, scoprendo e approfondendo le località di Saltara, Mondavio e Fossombrone. Un progetto, quello degli educational, che continuerà in tutte le località comprese dagli itinerari della bellezza. E sono stati quasi 500 gli atleti provenienti da tutta Italia che ieri hanno partecipato al campionato di Duathlon Classico tenutosi per il secondo anno a Pesero in Baia Flaminia attraverso l'organizzazione della Flipper Triathlon. Dopo il successo dello scorso anno gli atleti Marta Bernardi e Domenico Passuello anche in questa edizione 2022 si sono riconfermati campioni tricolori assoluti. Paolo Fontana e Marco Vanzolini sono rispettivamente i nuovi presidenti di registro storico Benelli e Motoclub Tonino Benelli di Pesero. Nuove cariche che sono state elette nel corso delle assemblee dei soci delle due associazioni che si sono tenute ieri pomeriggio nella sede del Museo Benelli di Pesero. Un nuovo incarico anche per Paolo Marchinelli che è stato nominato direttore del Museo Officine Benelli di Pesero. Per quel che riguarda Paolo Fontana già presidente del Motoclub per 25 anni è stato eletto all'unanimità alla guida del registro storico Benelli succedendo al compianto Paolo Prosperi. E dal registro storico e Motoclub passiamo invece al film Benelli su Benelli che venerdì è arrivato per la prima volta a disposizione degli spettatori pesaresi al cinema Solaris. Le nostre telecamere hanno seguito questa prima. Dopo mesi di restrizioni da pandemia i cinema tornano a riempirsi e lo fanno con un film interamente made in Pesero. Venerdì sera Benelli su Benelli è arrivato finalmente in sala. Al cinema Solaris è andata in scena la prima del film diretto da Marta Miniucchi e prodotto da Genoma Films che racconta la storia di Tonino Benelli, del marchio motoristico Benelli e di uno spaccato di 900 pesarese che ha entusiasmato il pubblico del Solaris. Mercoledì 6 aprile alle 19 allo stesso Cinema Solaris ci sarà l'ultima possibilità almeno per il momento di vedere la proiezione di Benelli su Benelli dopo il successo di venerdì alla presenza della regista della sceneggiatrice Anna Paola Fabri e di parte del cast e delle maestranze che hanno preso parte alla realizzazione del film. Siamo molto emozionati di presentare il film qui a Pesaro con il cittadino Benelli posso dire che ha portato tanta gloria alla nostra città. Abbiamo presente la rappresentante della famiglia Benelli Cristiana Benelli in qualità di nipote di Tonino la costumista Magda Coltigil molto apprezzata questa sera molto apprezzata giustamente poi vedrete qualche momento del film e ovviamente Alessandro Gimelli last but not least essendo il nostro protagonista uomo l'ho lasciato per ultimo veramente bravo e talentoso. Dovete venire a vedere questa storia che è affascinante è un vero tuffo nel passato e riguarda la storia sì della nostra città Pesaro ma è anche una storia italiana quindi è fondamentale venirla a vedere perché è veramente da pelle d'oca. Io credo che dovete venirla a vedere perché riuscite a vedere quanto la moda dell'epoca ha influenzato anche il nostro modo di vestire. È un mix tra sport, cultura e società che è veramente interessante e poi per me è un orgoglio perché chiaramente racconta la storia del nonno Tonino. Vogliamo ringraziare la sceneggiatrice Anna Paola Fampri siamo due donne coraggiose che hanno raccontato una storia di uomini e di motori della Vicenza la sceneggiatrice Anna Paola Fampri è qui con noi anche lei e quindi insomma abbiamo fatto questo atto di coraggio il nostro attore è Francesco Benelli come ruolo che è Massimo Fratelloni uno dei fratelli Benelli. Grazie a tutti. Venite al cinema. Tornate. Venite. E ora spazza la ricca pagina sportiva del lunedì con primo piano focalizzato sulle vittorie importantissime di VL e vi spesero di grande peso specifico per le classifiche di entrambe. Altri due punti pesanti come Macigni nella classifica e nella lotta salvezza di una VL che torna dalla trasferta di Casale Monferrato con una robusta vittoria 70-86 frutto di 40 minuti mantenuti a costante alto livello. Nell'anticipo del sabato i 20 punti di Jones e 19 di Delfino trascinano Pesaro ad una vittoria importantissima sul campo della matricola terribile Bertram Tortona. Celebriamo con soddisfazione un'impresa fatta contro un'avversaria di questa caratura soprattutto sull'onda della sconfitta partita sette giorni fa con Brescia dove eravamo riusciti a accumulare un vantaggio di 16 punti delapidato poi nel secondo tempo stasera abbiamo avuto una migliore continuità di rendimento pur con qualche momento con qualche passaggio a voto complice c'è anche una rotazione di giocatori ridotta nell'emergenza di dover anche reagire al infortunio partito da sempre durante il primo test di Tordona era stata capace di tornarci addosso ha trovato per noi due canestri importanti che ci hanno permesso di mantenere un buon vantaggio nel complesso ritengo che siamo riusciti a fornire una prestazione corale di livello stimolati da giocare con un avversario di questa caratura quindi metterci alla prova con loro per quello che hanno fatto vedere fino ad oggi ci imponeva di rispondere come squadra per quello che sono le loro caratteristiche principali quindi non si è al loro livello e quindi sono stati durante tutta la settimana un riferimento e uno stimolo insieme come detto a quella dolorosa sconfitta che abbiamo subito domenica nonostante uno sforzo altrettanto importante quanto quello che avete visto stasera stiamo inseguendo una salvezza difficile con una concorrenza feroce di squadre che ogni settimana dimostrano di avere le risorse per giocazione di gara e noi vogliamo vogliamo assolutamente rimanere a costruzione dal basket al calcio è stata una domenica da incorniciare anche per la Vispesero che dopo tre sconfitte consecutive batte il Montevarchi 2 a 0 torna a tenere la porta inviolata e trova una vittoria di peso specifico enorme sulla classifica perché viene definitivamente e aritmeticamente archiviata la pratica salvezza e a tre gare dalla fine ci si rilancia in zona playoff riprendendosi l'ottavo posto in classifica in partita fa tutto Cannavò doppietta divisa fra un rigore dopo 17 minuti e una gemma da grande attaccante a inizio ripresa tutto parte sempre dall'atteggiamento atteggiamento fantastico propositivo voglia di sacrificarsi impegno collaborare hanno fatto benissimo contro una squadra che fa dell'intensità dell'organizzazione uno dei propri punti di forza quindi questo vale ancora di più io penso che l'ho già detto tante volte la salvezza tranquilla che volevamo avere non è mai stata in discussione perché siamo rimasti tutto l'anno a sinistra e adesso questa coincidenza di aver incontrato le due capoliste e dietro averci attaccato una brutta partita sicuramente insomma ci ha fatto adatto modo di fare delle riflessioni e di ritornare ad essere quelli che come oggi hai visto in campo si aiutano corrono insieme sono corti aggressivi e soprattutto non rischiano c'è qua Ale che è tornato a fare il clean sheet come si dice per noi è importante abbiamo costruito i nostri punti sopra questi valori e dopodiché quando c'è stata la possibilità abbiamo visto anche come le nazioni per esempio del primo gol delle giocate sulle catene esterne abbiamo visto delle collaborazioni cambi di posto siamo tornati con il centro campo a tre orizzontali per essere un pochettino più densi e siamo convinti e concentrati che la nostra stagione deve finire in salita in crescendo nel calcio di Serie D domenica pazza per il Fano che al Mancini chiude il primo tempo sotto 2 a 0 con l'alto Casertano rimane pure in dieci uomini ma finisce per rimontare e vincere con un clamoroso 3 a 2 costruito da Tortori da un autorete e dal Tris di Casolla grande gioia anche nel rugby per la Fiorini che al Toti Patrignani batte gli eterni rivali di Noceto con un emozionante 22 a 20 nel campionato di calcio a 5 l'Ital Service rimedia invece un buon 3 a 3 in casa dell'Olympus Roma a sei giorni dal remake della finale di Coppa Italia vinta dai pesaresi un pari costruito sulla doppietta di De Oliveira e la rete di Onorio che mantiene Pesaro in vetta con due punti di vantaggio su Napoli e tre su Petrarca prima di una domenica di break del campionato nella pallavolo ad Urbino si conclude in festa la stagione della Megabox Vallefoglia con una indolore sconfitta al tiebreak con Roma nell'epilogo del campionato di Serie A massima serie che invece sono costrette ad abbandonare le capitoline sarà invece ancora Serie A per la Megabox ancora con la capitana Tatiana Kosleva la cui conferma è stata ufficializzata a margine dell'epilogo del Palacarneroli con lo sport si conclude questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News e allo sport è dedicata anche la nostra prima serata di questa sera alle 21.20 potrete infatti rivedere le emozioni della vittoria della Fiorini Pesaro Rugby che ieri ha battuto Noceto al campo Toti Patrignani di Pesaro l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7.20 con la nostra segna stampa in diretta Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa sera ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti